Sono Alberto Prase, presidente di Prase Engineering, rappresento ovviamente la nostra società e anche la società in-out che è presente all'ISE per vendere e presentare i suoi prodotti per la riproduzione e amplificazione del suono. Per quanto riguarda Prase Engineering abbiamo fatto uno stand che vuole essere un punto di accoglienza per i nostri visitatori clienti italiani, visto che noi non produciamo prodotti ma distribuiamo quello che vedete alle nostre spalle dove sono indicati tutti i nostri marchi. C'è stato un grande interesse quest'anno, molti italiani, siamo molto soddisfatti perché anche in un periodo come questo dove la crisi è incipiente, l'interesse e la voglia di fare e di utilizzare questi prodotti è comunque molto forte, quindi speriamo che anche quest'anno i risultati che abbiamo ottenuto nello scorso anno siano replicati. Abbiamo diverse novità che non sto qui a elencare ma che troverete eventualmente in altre pubblicazioni di questa rivista e anche nel nostro sito web, tra le quali vorrei solo sottolineare in pratica il nuovo sistema 5900 di DISS, il rivoluzionario sistema di audio networking di Biamp che si chiama TESIRA che rivoluzionerà nel prossimo anno la maniera di come mettere i segnali in rete dal punto di vista dell'amplificazione professionale. In questi giorni abbiamo parlato sia con clienti ma soprattutto con costruttori, con fornitori eccetera, l'evoluzione tecnologica sarà sempre più spinta e probabilmente fra 4-5 anni noi avremo delle scatole che faranno tutto, audio, video, luci, controllo eccetera. Per cui dove sarà la diversità e dov'è che noi dovremo potenziare? Dovremo potenziare il servizio perché soltanto il servizio ci differenzierà dagli altri e sia noi dovremo dare un servizio migliore ai nostri clienti installatori e contract sia loro stessi dovranno dare un grande servizio al loro cliente perché con l'omogeneizzazione dei mercati l'hardware può comprarlo in tutto il mondo. Ci sarà sempre un prodotto di serie A e un prodotto di serie B però la grande differenza la farà il servizio e come servizio intendo tante cose. Il servizio è avere il prodotto, avere un'assistenza veloce, avere anche un servizio diciamo che prepara l'integrazione dei sistemi quindi un ausilio alla progettazione e un ausilio anche al post vendita perché il post vendita sarà importante tanto quanto la vendita. Allora il mercato italiano è affetto da una grave componente che è la mancanza della connettività. Noi oggi dai dati siamo collegati al 25% dove qualsiasi paese nord europeo è collegato all'85%. In questa situazione la presenza dell'installatore e dell'integratore è ancora molto importante. In più il mercato si è anche spezzato gravemente in due pezzi il mercato AIT PRO e il mercato LOW COST e sono due cose completamente diverse. Allora nel mercato LOW COST le aziende andranno direttamente sull'utente finale. Nel mercato invece di altissima qualità la presenza dell'installatore della corporation è ancora molto importante e probabilmente significativa.